Salta la mediazione sul decreto del fare. Il Movimento 5 Stelle promette ostruzionismo a suon di ordini del giorno, ma il blocco dei lavori quale conseguenze può portare? Per cominciare potrebbe pagarne le conseguenze la tanto discussa legge sull'omofobia, che sarebbe dovuta arrivare in aula venerdì 26. La legge introduce l'aggravante di discriminazione fondata sull'omofobia e la transfobia per i reati previsti dalla legge Mancino. Ora, dopo aver tanto discusso in commissione, la legge potrebbe addirittura slittare all'autunno prossimo, aumentando il già insostenibile ritardo civile per il nostro paese. Ma nel mirino del rinvio targato 5 Stelle c'è anche la legge sul finanziamento pubblico ai partiti, una norma che dovrebbe abolire il sistema in vigore di contributi pubblici diretti, per sostituirlo con forme di contribuzione volontaria. Sembrava un tema estremamente caro al Movimento 5 Stelle, che in campagna elettorale, e non solo, ne aveva fatto una battaglia, ma forse non era poi così urgente. Incerto anche il futuro del DDL costituzionale, che prevede la composizione di una commissione parlamentare ad hoc, che possa mettere mano alle modifiche necessarie alla Costituzione. Anche per questo testo, l'ustruzionismo potrebbe bloccare il percorso faticosamente intrapreso e rimandarlo a dopo l'estate. In scadenza anche sei decreti legge, che dovranno essere convertiti in fretta per non decadere. Riguardano i temi più disparati, dal salva-ilba, la norma che è commissaria l'azienda dopo le gravi inadempienze, allo svuota-carceri, che introduce pene alternative per i reati con pene inferiore a due anni. Ma anche i decreti sui temi dell'economia, con gli eco-bonus, sul pagamento dei debiti alle pubbliche amministrazioni, e il decreto IVA-Lavoro, che contiene misure per agevolare le assunzioni stabili dei lavoratori dipendenti giovani e che trova le risorse per lo slittamento dell'aumento dell'IVA, previsto per il 1 ottobre. Insomma, per essere un partito che odia gli sprechi e le perdite di tempo, l'ustruzionismo del Movimento 5 Stelle rischia di costarci davvero caro.